Ueeh! Non fare il babbo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra, sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODARONE! DAIE! Ueeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti! Ad un mio nuovo video! Io sono XIUDAR e ragazzi tornano finalmente i video con le news di Fortnite. Purtroppo in questo capitolo non ce ne sono state proprio tantissime e tra l'altro siamo oramai negli sgoccioli. Insomma gli ultimi 17 giorni prima dell'arrivo della season 2 di questo capitolo numero 2. Non abbiamo purtroppo nessuna informazione per quanto riguarda un possibile evento. Abbiamo visto qualcosa con la schermata di caricamento dell'agente del caos ma non abbiamo segnali in game che ci facciano intendere cosa potrebbe accadere. Nel video di oggi parleremo però del ritorno di alcuni pack, oggi dei bundle quelli che sono usciti nelle precedenti season del vecchio capitolo. Già ne abbiamo visto uno in game e sono pronto a scommettere che ne arriveranno degli altri. C'è un trucchetto che voglio farvi vedere per scoprirlo ma parleremo anche del bug delle zipline che sono state appunto disabilitate in quanto è successa una cosa abbastanza incredibile. Anche lì andremo a dare un'occhiata ad uno spezzone di gameplay e poi ufficiale ragazzi la notizia da parte di Epic Games. Per quanto riguarda le sanzioni nel competitive quindi accadranno delle cose esattamente a partire da ieri che potranno causare il sanzionamento e la squalifica da parte di Epic Games ai giocatori che utilizzano comportamenti scorretti in game. Prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live su Twitch dalle 8 alle 18. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di utilizzare il codice creator xuderone e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Ma prima è un po' che non ve la faccio ragazzi la domandina ci sta veramente un sacco domandina di oggi a tema con il video qual è il tuo bundle preferito in assoluto? Qua ce ne sono solamente alcuni abbiamo visto il primo quello dell'agente speciale non mi ricordo come si chiama l'avviatore season 4 abbiamo gli altri due pack usciti nelle season successive season 6 non ricordo se il wave breaker sia della season 7 ma non credo credo che andiamo un po' più avanti il mio ragazzi è presente proprio da questi ed è l'avviatore mi piace tantissimo lo ricordo proprio bene il giorno in cui lo shoppai avevo fatto una copertina a tema insomma tanta tanta roba dimmi qual è il tuo bundle preferito qua sotto nei commenti Ma quindi ciancia alle bande ho sbagliato a spiattare Non sono più abituato con il e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il primo non sono più abituato argomento di oggi Questa è un'immagine interessantissima perché ragazzi ci fa vedere come come ogni anno fortnite Decida di dare peso al capodanno cinese è un'immagine presente proprio nel sito cinese di fortnite che Raffigura appunto i fratelli baobross con una delle nuove skin che dovrebbe arrivare adesso non so se la skin in questione sia Shoppabile o ci venga magari data facendo qualche challenge del capodanno cinese non è ancora chiara la cosa però è sicuramente una cosa Interessante da vedere che potrebbe appunto Trasformarsi in un nuovo regalo per noi giocatori Adesso imbroccato il tasto e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi molto Velocemente come vi anticipavo ragazzi la season è quasi completa 17 Giorni al termine il 6 febbraio è proprio la data prestabilita per il termine di questo capitolo 1 di questo Season 1 del capitolo 2 anche se in realtà alcuni file in gioco Che ovviamente non si possono vedere sono file Nascosti Dichiarano ancora che la fine della season è programmata per il 15 febbraio quindi Speriamo non ci sia da attendere così tanto incrociamo le dita e speriamo che vada tutto per il meglio E andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi Eccola qua la notifica direttamente Da parte di fortnite status quindi la pagina che si preoccupa di informare tutti i giocatori sui Malfunzionamenti del gioco Ehm la frase dice a causa di un problema le zipline sono state temporaneamente disabilitate Ehm verranno Riabilitate Nel prossimo update Adesso la domanda che mi faccio io è ci sarà un update prima della season 2 o facciamo come abbiamo fatto Dalla 11.30 alla 11.40 ad aspettare un mese Io non lo so però vi faccio vedere una cosa abbastanza carina ragazzi Voglio mettervi Si riusciamo a vederla Direttamente da qua Guardate che cosa succede O meglio che cosa è successo In game con la zipline buggata C'è un tipo praticamente che ha la zipline buggata ed è come se fosse terminator Perché basta che passa in mezzo alle strutture avversarie Con questa zipline sopra distrugge demolisce tutto E ovviamente riescono a killare senza problemi gli avversari Una cosa molto divertente che ovviamente non poteva che terminare con La disabilitazione delle zipline E andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi Parliamo di un'altra novità Oramai ne abbiamo già vista una Parliamo ovviamente dei balletti Che alcuni fanno E che Epic Games con la collaborazione con TikTok Propone poi appunto in game shoppabili Ovviamente nel negozio per i giocatori Ora vediamo direttamente il tweet di questo signor Jordan Fisher Che io ovviamente non ho idea di chi sia Che come vedete ha pubblicato appunto il suo ballo Contemporaneamente al balletto che verrà introdotto prestissimo in questi giorni Che si chiamerà phishing se non ricordo male Tra l'altro abbiamo anche per chi non l'avesse visto proprio il balletto in game E ve lo faccio vedere Molto tranquillamente curiosa anche intanto la skin Che è quella che arriverà per il Samsung S20 E per un altro dispositivo il 27 gennaio Ora non ricordo bene il giorno Un balletto davvero molto divertente Probabilmente con la funzione di attraversamento Quindi lo potremo utilizzare per andare in giro per la mappa E la cosa molto carina davvero E anche la skin che secondo me merita veramente un sacco Insomma staremo a vedere che cosa succede Non ho tempo neanche di fare lo slide Perché ecco qua ragazzi Il pack disponibile già in questo momento Nello shop di Fortnite Sto parlando del Frozen Legend Bundle Il primo se non ricordo male Quindi un bundle oggi che comprende Raven ghiacciato Il Cavaliere Rosso ghiacciato E il Ranger ghiacciato È arrivato ieri pomeriggio nel negozio Io l'ho preso subito Perché era l'unico bundle che non acquistai all'uscita E la cosa interessante è che sembrerebbe Possano uscire di nuovo i vecchi bundle Perché vi dico questo? Perché vi faccio vedere una cosa Prima di salutarvi Un piccolo tutorial ragazzi Su come scoprire che bundle usciranno Sto parlando ovviamente Per chi utilizza il cellulare Quindi per gli utenti da mobile Come vedete Lui fa vedere che ci sono C'è il bundle proprio sopra la mia testa Il Frozen Legend C'era un altro bundle E che cosa bisogna fare? Con Fortnite aperto Bisogna andare tranquillamente Nelle impostazioni del vostro cellulare E togliere l'aggiornamento automatico di data e ora E settare una data Tipo nel 2028 Il giorno 14 febbraio Data molto importante Non fatene altre Fate proprio il 14 febbraio Mando avanti un pezzettino il video Perché qua lui Gli si blocca Come vedete Non riesce a farlo vedere Risposta Appunto al 2028 14 febbraio E una volta Ritornati Su Fortnite Switchate un paio di volte Tra il negozio E lo shop Adesso lui giustamente Si fa la sua pubblicità Per il suo supporta creator Che è ovviamente Xyuderone E una volta inserito Ragazzi Ecco Che si vede Lo starter pack Del rogue agent L'agente elite Potrebbe tornare? Non lo so Sarebbe veramente tanta roba Io ce l'ho E non sono neanche arrabbiato Come magari molti di voi Potrebbero essere Qualora uscisse nuovamente Io vi ringrazio per oggi Per avere guardato Questo video news Mi raccomando Un bel pollicione in su Iscrivetevi ai canali Io sono in live su Twitch Proprio adesso Ciao